29 luglio, 2016. Questo è ora il giardino Maurizia Vena. L'avete visto a maggio, l'avete visto a giugno, lo vedete ora a luglio. 29 giugno, luglio, scusate, luglio, ed è accaduta una cosa strana, potete capire se questo è stato un altro vandalico, un disturbo di usura, perché passando per pulire e tagliare l'erba altissima. Il pezzo di ferro, come vedete, è logoro e si è proprio spaccato. La cosa strana è che non si veda l'altro pezzo della targa, non c'è da nessuna parte. Questa è la realtà. Comunque prendiamola che Maurizio ha detto io ci sono e batto un colpo e ci siamo anche noi. Questo parco?